Qual è la prima cosa che fai quando vuoi prenotare un ristorante? Probabilmente vai su Google, TripAdvisor e bam, guardi le recensioni e ti affidi completamente a questa piattaforma. Ma come ha fatto ad avere così tanto successo? Vedi, loro utilizzano queste tre tecniche che se sfruttate correttamente fanno esplodere qualsiasi business. Puoi applicarle. Prima tecnica, affidabilità. TripAdvisor ha costruito una reputazione basata su recensioni autentiche e verificate. Gli utenti possono vedere le esperienze di altre persone con foto, commenti e valutazioni molto dettagliate. E questo sistema di feedback aperto ha creato un senso di fiducia e trasparenza che è fondamentale quando si tratta di scegliere dove mangiare e soggiornare. Secondo elemento, tecniche SEO. TripAdvisor ha investito molto nella sua presenza online e grazie ad un'ottima ottimizzazione SEO appare sempre tra i primi risultati quando si cerca un ristorante su Google. Questo ha reso ovviamente TripAdvisor un punto di riferimento naturale per chiunque cerchi recensioni. Terzo elemento, facilità d'uso. Con un'interfaccia intuitiva e disponibile sia su web che su app, TripAdvisor è facilmente accessibile a chiunque. In qualsiasi momento. E basta digitare il nome del ristorante e si ottiene immediatamente una panoramica delle recensioni e delle valutazioni. Ecco, queste tre tecniche gli hanno permesso di fatturare 1.7 miliardi di dollari solamente nel 2023. Salve il video e dimmi quali consigli puoi trarre da questa azienda.